Siamo con Rosario Dominici, vicepresidente della Bagnarese, uno dei più longevi dirigenti della Bagnarese e cominciamo un po' dalla storia della Bagnarese. La storia, vogliamo parlare della storia in generale della Bagnarese, o la storia da, giustamente dicevi tu, il dirigente più longevo, sì assieme alla società di cui faccio parte, siamo la società più longeva sicuramente ed io credo di essere il più longevo di tutti perché ininterrottamente dal 2003 sono dirigente della Bagnarese, con vari incarichi, in più qualche anno prima a fase alterna ho anche fatto per diversi anni il dirigente, di cui pare di non sbagliare se dico che sono il dirigente più longevo. Una Bagnarese che quest'anno tutto sommato sta dando delle soddisfazioni? Sicuramente diciamo che il nostro obiettivo iniziale era fare i play-off, poi giustamente strada facendo ci siamo resi conto che potremmo andare ben oltre quel quinto posto che ci consentirebbe comunque di fare i play-off. Sicuramente c'è il rammarico di qualche punto lasciato in casa, altrimenti la classifica potrebbe essere anche migliore, diciamo a quella attuale basterebbe qualche disattenzione in meno perché come si dice lasciare i punti in casa il danno è il doppio rispetto a quando si perde fuori casa. La Bagnarese è già in zona play-off, sono stati fatti degli acquisti recentemente, quindi si punta a che cosa? Sicuramente si punta ai play-off e si punta a una posizione più alta possibile che ti consentirebbe di fare lo spareggio play-off in casa. Si sa quando si gioca in casa e in teoria si dovrebbe essere avvantaggiati. Penso che il terzo posto è alla nostra portata. Non vorrei essere presuntuoso e parlare di primo o secondo posto anche perché i punti di distacco delle prime due sono cospicui. Poi se qualcuno di loro molla, crolla o tanti motivi che possono attanagliare il calcio delle tantissime, i fattori economici, le dirigenze che saltano e via cantando, noi siamo qua. Anche perché come dicevi tu abbiamo fatto due acquisti che tutti ci potrebbero invidiare perché i giocatori di categoria superiore, vedi Mirko Tripodi, vedi il ragazzo che abbiamo preso da Gallico Nicolazzo e più l'organico che avevamo, credo che ora come ora possiamo andare a giocartelo fuori casa con tutte le squadre. Quest'anno la società è stata in parte rinnovata. Cosa manca poi effettivamente al movimento calcistico bagnarese per alzare il livello? È solo una questione economica? Grazie per la bella domanda. Al movimento calcistico bagnarese manca un po' di tutto. La collaborazione dei cittadini e la collaborazione degli operatori commerciali, economici, chiamiamoli come lo vuoi. Giustamente la società non è che sia stata rinnovata, c'è stato qualcuno che si è tirato indietro però pare che un mezzo passo avanti lo sta rifacendo. E diciamo se specialmente il pubblico quando viene si presenta ai cancelli, collaborava sotto il profilo economico come fanno a tutte le parti e non ci dobbiamo mettere là a emozionare quell'euro e due euro che poi comunque non ci consente di arrivare da nessuna parte. Gli operatori commerciali, gli sponsor e quant'altro. E perché no, negli ultimi due anni le istituzioni, vedi comune, che purtroppo non hanno, diciamo, non ci hanno aiutato come ci aspettavamo e allora abbiamo solo a bagnare all'unica cosa di buono la materia prima, i calciatori, perché fortunatamente bagnare è un paese dove i calciatori ci sono, ci sono anche se ultimamente molti giovani cercano altri sport e vedo sia la palla a volo che la palla a canestro che vanno crescendo piano piano. Si avvicinano le elezioni politiche, i partiti, insomma, c'è un po' di fermento nella cittadina. Voi come bagnarese, come società, cosa vi aspettate in futuro da chi poi andrà a governare il paese? Allora, io, come ripeto, sono dirigente dal 2003. L'amministrazione di cui, diciamo, è caduta qualche anno fa non è altro che la chieda 2001 che è sempre la stessa e noi come bagnarese, dalla vecchia amministrazione, non ci possiamo lamentare e anche le precedenti amministrazioni che, anche se erano di altro colore, hanno sempre risposto alle nostre aspettative. Noi ci aspettiamo che collaborino con noi come hanno fatto per il passato. Per di più auspichiamo che le strutture fatiscenti, le strutture che qualsiasi squadra viene a giocare e ci dice che ci dovremmo vergognare per il terreno di gioco che abbiamo, per una buona volta si decidono di fare quel manto sintetico che ci consentirebbe e a far crescere anche sotto il profilo tecnico i giovani di bagnare. Per il periodo natalizio, naturalmente, non possono mancare gli auguri. Certamente, intanto per quanto riguarda il Natale, buon Natale fatto, come si dice. Poi siamo alla fine dell'anno, che sia una felice fine, un buon inizio, che il 2017 ci porta tutto quello che vogliono i nostri cuori. Auguri a tutti i giocatori della Bagnarese, a tutta l'intelligenza, agli allenatori e perché no a tutti gli sportivi calabresi e a tutti i cittadini di Bagnarese. Perché è giusto che tutti aspiriamo al meglio per noi, per le nostre famiglie e per i nostri figli. Auguri, buon anno.